Carissimi amici, buonasera. Abbiamo visto negli ultimi due incontri della serie Frammenti Gnostici l'architettura dell'uomo, come questo uomo sia stato creato dal demiurgo, dagli arconti, nella sua forma fisica e nella sua anima. Quindi abbiamo visto l'inizio della storia dell'essere umano, l'inizio della sua storia come prigioniero all'interno di questa creazione arcontica e come fondamentalmente il demiurgo, gli arconti da un lato e gli eoni dall'altro trovino nell'uomo quel campo di battaglia. Adesso cerchiamo di vedere, cerchiamo di indagare quello che è il destino ultimo dell'essere umano. Allora, cerchiamo di contestualizzare. Stiamo parlando, siamo all'interno di quelli che sono definiti miti della creazione. Noi sappiamo che l'ognosticismo prevalentemente fra la forma comunicativa del logos e la forma comunicativa del mitos preferisce come forma comunicativa il mitos. Perché? Perché l'ognosticismo attraverso le scuole gnostiche che furono attraverso il mito comunica un numero di informazioni, di immagini sicuramente maggiori rispetto che all'interno di una comunicazione dialettica razionale e queste informazioni sono rivolte a solleticare il ricordo intimo profondo di quello che noi adesso sappiamo essere quel nucleo che all'interno dell'uomo è stato inserito dagli eoni. E l'abbiamo visto perché? Perché attraverso quest'operazione mirano a distruggere l'ordinamento demiurgico e a fare riassorbire tutto questo prulasso psichico e spirituale all'interno del plerova. I miti della creazione possono essere ripartiti miti cosmogonici. Sono miti cosmogonici cos'è? Sono i miti che parlano della creazione dell'universo e dei pianeti. Abbiamo poi i miti cosiddetti teogonici. Che cosa sono i miti teogonici? I miti che parlano degli origini degli dei, dei loro amori, delle loro imprese, dei loro odi e quant'altro. Abbiamo anche i miti antropogonici che sono i miti sull'origine e l'evoluzione dell'uomo. Poi abbiamo un'altra categoria che sono i miti escatologici. Cioè i miti che indagano l'escatologia che cos'è? È ultimo, deriva dal greco antico escatus che significa ultimo e in teologia, nelle religioni, in mitologia, in filosofia è quella speculazione umana che indaga sul destino ultimo dell'individuo, dell'intero genere umano ma anche dell'universo. Quindi noi abbiamo già visto come è nato l'universo demiurgico, noi abbiamo già visto come è nato il demiurgo, come sono nati gli arconti, quindi miti teogonici, abbiamo visto come è nato l'uomo, quindi abbiamo visto anche il mito antropogonico. Adesso andiamo a vedere il destino ultimo, l'escatologia dell'uomo, che vi dirò che in alcune scuole gnostiche, specialmente alternative, come i catari, coincide, il destino ultimo dell'uomo coincide con il destino ultimo dell'universo. All'interno dell'agnosi e il mondo arcontico, cioè all'interno della scuola barbelotiana, troviamo la narrazione del destino ultimo dell'uomo, proprio c'è un paragrafo con questo titolo, nel libro segreto di Giovanni. Che cos'è il libro segreto di Giovanni? Si riferisce a Giovanni, l'Evangelista, che dopo la morte di Gesù, in qualche modo si ritrova isolato da tutti gli altri discepoli, da tutti gli altri seguaci di Gesù e viene in qualche modo raggiunto da rabbini, da persone che erano contrate a questi insegnamenti, che iniziano a chiedere dov'è, dov'è, dov'è il tuo maestro. Giovanni si sente pressato, ha paura anche per la propria vita, è pieno di dubbi e si ritira. Si ritira e lì riceve la visita del Salvatore, del Salvatore nella sua veste di rivelatore. L'ognosticismo si articola, l'ognosticismo non ha una dimensione, come abbiamo già detto, universale, non si rivolge all'intera umanità in maniera indifferenziata, ma offre un dialogo, offre una risposta individuale. A chi? A quell'uomo che riesce a entrare in contatto con il messaggero, con il rivelatore, con il leone, cioè con colui che, inviato da un piano superiore, comunica una determinata verità. In questo caso è il Salvatore, è lo stesso Gesù Cristo, nella sua figura di eone di spirito che individualmente comunica a Giovanni determinate informazioni. Sono molte queste informazioni, noi adesso ci concentriamo su quella che è l'escatologia, su quello che è il destino ultimo dell'uomo. Io vi leggo queste sei domande e le sei risposte e cerchiamo di commentarle assieme. Qui è Giovanni che parla. Ho chiesto al Salvatore, Salvatore rivelatore, maestro, maestro, quindi si configura un rapporto fra colui che è in grado di insegnare e colui che è in grado di imparare. Maestro, tutte le anime saranno quindi condotte in modo sicuro verso la luce pura? Tradotto. Maestro, tutte le anime, ricordatevi, è nell'ognosticismo c'è il concetto di anima. Saranno, torneranno al pleroma, al mondo della luce, perché questo è il mondo delle tenebre. Risposta. Coloro su cui scenderà lo spirito della vita, Zoe, della vita spirituale, saranno con il potere che emanciperà. Essi saranno salvati e diventeranno perfetti. La perfezione è un divenire. Degni di grandezze e purificati da tutto il male e dalle angosce della malvagità. Poiché niente bramano, niente bramano delle cose di questo mondo. Vi ricordate degli elementi che erano stati inseriti da parte degli arconti nella loro composita strutturazione dell'anima. L'anima nell'ognosticismo una parte è espressione di Sofia Zoe, cioè degli Eone, una parte degli arconti. Essi si devono preoccupare, poiché niente bramano, tranne che l'essere incorruttibili, essi non si devono preoccupare da questo momento in poi, senza rabbia, senza gelosia, senza invidia, senza desiderio di avidità e quant'altro. Non sono influenzati da nient'altro che dall'essere soli nella carne e indossano la carne mentre non vedano l'ora in cui verranno accolti da coloro che gli esere verrà con le vesti dello spirito. Questi uomini sono degni dell'incorruttibile. Questi uomini non si devono preoccupare di nessuno dei meccanismi arcontici legati quindi alla bramusia delle cose di questo mondo. Anzi, questi uomini, la loro unica preoccupazione è un anelito, è della serie che io so già qual è il mio destino e non vedo l'ora di compierlo. Quindi vivo con una sorta di nostalgia, con una sorta di attesa triste, triste perché io in questo momento sono nella carne ma io voglio essere nello spirito. Gli ignostici, prima di tanti altri, hanno vissuto ed espresso l'essere, vivere nel mondo ma non essere nel mondo. Continuano le domande. Io ho detto, sempre Giovanni, signore e per quanto riguarda le anime, anche se il potente spirito della verità della vita è discesa su di loro, che non hanno fatto queste cose. Quindi nella prima domanda ti è stato risposto, non tutte le anime andranno al pleroma, andranno al mondo della luce, ma solamente quelle anime in cui è disceso lo spirito della vita. Ora si chiede, e quelle altre, la risposta è, cioè quelle altre dove non esce il suo spirito della vita, la risposta è, se lo spirito scende su di loro, saranno sicuramente salvate e trasformate. Il potere scenderà su ogni uomo perché senza di esso nessuno potrebbe ribellarsi al mondo della materia. Dopo la nascita, se lo spirito della vita cresce, il potere sopraggiunge e rafforza quell'anima e nessuno sarà in grado di sviarla con azioni malvagie, ma le persone sulle quali discende lo spirito e contraffazione ne sono forviate e vanno fuori strada. Quindi, come c'è l'azione all'interno di questo, di questa strutturazione dello spirito di vita, c'è l'azione dello spirito di contraffazione. È un gioco. È un gioco fra queste due anime che si contendano l'uomo. Una tira verso il basso, tira a trattenere e una tira a liberare e portare verso l'alto. Maestro, altre domande, sono sei le domande. Dove andranno le loro anime quando lasceranno la loro carne. Rise mi disse, l'anima in cui il pneuma diverrà più forte dello spirito di contraffazione sarà forte e fuggerà dal male e attraverso l'intervento dell'incorruttibile verrà salvata e verrà accolta per l'eternità degli eoni. Ecco un altro punto a mio avviso degno di nota. Nell'ognosticismo non c'è la dissoluzione, nello zero metafisico, nell'uno metafisico. No, 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 signori miei. Nell'ognosticismo l'anima individuale, l'anima individuale che trova la radice nello spirito, non si scioglie, non si discrega, non si annulla in niente. Va semplicemente a rioccupare la propria posizione all'interno della plenitudine del pleroma. Comprendete la differenza? Siete uno e tornate ad essere uno, nella moltitudine degli altri eoni, nella fratellanza spirituale. Dissi, sempre Giovanni, maestro, dove andranno le anime delle persone che non hanno saputo a chi appartengono? Lo spirito sprecevole è diventato più forte in queste persone, mentre si stavano smarrendo. Tutti noi ci stiamo smarrendo, oggi più che mai. Questo spirito pone un pesante fardello sull'anima, la conduce nel male e la scaglia nell'oblio. La conduce nella reiterazione del male, che abbiamo visto provenire dall'ignoranza, e la scaglia nell'oblio, cioè nella dimenticanza della tua origine. Dopo che l'anima lascia il corpo, viene consegnata all'autorità, che sono venute in essere attraverso il primo arconte. La legano con catene e la gettano in prigione. Il ciclo delle reincarnazioni all'interno di questi corpi plasmati dall'azione degli arconti. La perseguono fino a quando non si sveglierà dall'oblio e acquisirà conoscenza. Solamente a questo modo raggiungerà la perfezione salvata. Tradutto, fin tanto che un'anima non si risveglia a se stessa e comprende il mondo di errori di oblio in cui è stata imprigionata attraverso il corpo fisico, attraverso l'anima arcontica e attraverso i sensi, non potrà uscire da questo ciclo. Dissi, maestro, come può l'anima diventare più giovane? Nel grembo materno o nell'essere umano? Nel grembo materno. Nell'ognosticismo le anime sono presenti all'interno del grembo materno. Cosa si intende diventare più giovane? Significa nell'ognosticismo diventare più pura. Noi in genere si parla, si sente dire, sei un'anima antica. Nell'ognosticismo si vuole tornare a essere un'anima giovane, un'anima giovane vicino a quel mondo ideale che era il mondo del pleroma. L'infanzia delle anime è la perfezione. Fu contento, salvatore, quando glielo chiesi. Anch'io in genere sono molto contento quando mi fanno delle domande pertinenti, brevi e coincese. E mi rispose, sei veramente benedetto? Perché hai compreso? Quest'anima sarà fatta per seguirne un'altra in cui dimora lo spirito della vita e la verità e lei verrà salvata attraverso quella. Quindi non sarà di nuovo imprigionata. Tradotto. Quando un'anima giunge alla piena conoscenza della verità di questo mondo e della verità dell'altro mondo, viene tradotta, traghettata verso l'altro mondo, il mondo del pleroma, da un messaggero. Ho detto, maestro, e siamo all'ultima domanda, dove andranno le anime delle persone che avevano conoscenza ma si sono allontanate? Salvatore mi disse, saranno condotte nel luogo in cui vanno gli angeli della miseria, dove non c'è pentimento, saranno tenute lì fino al giorno in cui coloro che hanno bestemmiato contro lo spirito vergine saranno torturati e puniti in eterno. C'è un ciclo, c'è un tempo. La possibilità di redenzione attraverso l'agnose che è veicolo e forma per uscire da questo mondo arcontico non è infinita. A un certo punto cala il sipario. A un certo punto c'è giudizio, o di qui o di là. Si sono state date le opportunità, si sono stati dati i mezzi, si sono stati dati gli strumenti. Ci sei riuscito sì o no? Allora, in conclusione ricapitoliamo velocemente. Negli incontri precedenti abbiamo visto come nell'ognosticismo la forma comunicativa prediletta è quella del mitos. Perché? Perché attraverso il mitos vengono veicolate più informazioni. Attraverso cosa? Attraverso una narrazione immaginifica che è quello strumento di comunicazione attraverso cui si cerca di bypassare una mente razionale, una mente che giudica, una mente reattiva, una mente che fondamentalmente trova la sua massima impiego e utilità nel disporre, nel creare delle relazioni fra i fenomeni e l'uomo. Ma che in genere è molto poco educata o molto poco propensa a trovare un dialogo profondo con chi va trovato questo dialogo profondo, con quella particola di anima che è stata deposta in noi da Sofia Zoe. Zoe, vi ricordo, significa vita, vita spirituale. Abbiamo un'altra anima, per l'ognosticismo barbellotiano sì, ed è quell'anima che è stata deposta in noi dai sette arconti che ognuno di loro ha proposto un metallo. Bene, all'interno di tutta questa famiglia di miti che abbiamo visto cosmogonici, teogonici, antropogonici, adesso parliamo, abbiamo parlato della escatologia, cioè di quella narrazione, di quella speculazione attorno al destino ultimo dell'uomo e dell'universo. Dove troviamo menzione? La troviamo nel libro sereto di Giovanni che raccoglie tutte quell'insegnamento che lo studente Giovanni, studente dice proprio l'incipit del testo, ha ricevuto dal Salvatore. Dal Salvatore nella sua figura di Rivelatore, di colui che rivela questi misteri, queste cose nascoste nel silenzio, viene proprio scritto negli ingiti, nel silenzio della cosa della mente, della mente che in un uomo ignorante, cioè a cui è preclusa l'agnosi, è completamente asservita all'anima arcontica. Come si chiama questo paragrafo? Si chiama proprio sul destino umano. E qual è questo destino umano? Ricapitoliamo. Questo destino umano è il destino di ogni singolo uomo e ogni uomo se lo fabbrica. Non c'è nessun intervento salvifico universale, ma vi è solamente una presa di coscienza individuale. Coscienza sul cosa? Sul mondo arcontico, sulle sue leggi, sul perché dell'esistenza di questo mondo arcontico. In quel momento che cosa accade? Accade una cosa molto semplice. L'uomo non è più assoggettato all'azione di ipnosi e di oblio dell'anima arcontica, ma è solamente in uno stato di attesa, consapevole della prigionia del corpo carnale e in attesa di cosa? In attesa di maturare, di completare, di maturare, di completare la propria trasformazione, l'agnosi e veicolo e forma di redenzione e di salvezza. E a quel punto che cosa accade? Accade sempre all'interno di questa costruzione che un eone del pleroma lo porterà dove? Nel pleroma. Perché? Perché nell'ognosticismo non c'è di soluzione. Uno sei e uno torna ad essere. Uno sei qui e uno sarai là. Ma per andare là devi lavorare, devi prendere consapevolezza, devi prendere coscienza. Tutti gli altri, doppio step, continueranno a cercare o non cercare di prendere coscienza. Quando ci riusciranno, anche loro saranno introdotti in questo percorso, che gli porterà fuori dal mondo arcontico, se non ci riescano, continuano fino a quando all'infinito. No! A un certo punto tutto a termine. Questo mondo a termine. E qui entra un altro concetto che noi abbiamo affrontato in un precedente colloquio. Il concetto del tempo. Il tempo del demiurgo. Il tempo della presa di coscienza dell'uomo. Il tempo del ritorno a pleroma. Buonasera a tutti.